Volete sapere come si ottiene un buon risultato chirurgico? Seguite il video dimostrativo che seguirà per avere un pochino più di informazioni sulla programmazione tridimensionale. Allora oggi abbiamo una serie di software dedicati che ci permettono di programmare l'intervento chirurgico in maniera molto accurata. Il vero problema è come trasferire un programma chirurgico anche particolarmente complesso come può essere quello di questo caso nella sala operatoria e quindi oggi vi spiegherò questo. Quindi ci possiamo parlare di modellini tridimensionali ma la cosa più importante soprattutto sono queste. Questa nello specifico è una dima di taglio, ovvero una guida che mi dice come realizzare l'intervento sulla base di quello che è stato progettato al computer. È fatta su misura per il paziente, ha un'unica possibilità di appoggio e quindi mi sottolinea, mi evidenzia dove devo fare l'osteotomia, dove devo fare i buchi per le placche e saranno le placche con la loro conformazione a replicare esattamente lo schema chirurgico che abbiamo progettato al computer.